Siamo al momento, questo qui svolto a C-Man, stavolta siamo noi in anticipo sul titolo, quindi dobbiamo cambiare il titolo, che sennò poi la gente pensa che noi veramente abbiamo anche dei problemi, io non voglio dire... Abbiamo dei non titoli, insomma il titolo giusto è Conferma Inter, Aria Nuova Juve, è tornato il derby d'Italia, come inizia tu? Assolutamente sì, è tornato per merito della Juventus che ha riproposto... Ho visto che hanno nebbiato il titolo, l'intelligenza artificiale è stata. La Juventus ha ricostruito una squadra, Francesco quanti sono nella formazione l'undici ideale titolare i nuovi rispetto all'anno scorso? Ecco, sette nuovi su undici titolari è la dimostrazione di come la Juventus abbia fatto una rivoluzione. Io non sono d'accordo di base con i concetti che sento dire la Juventus ha speso 200 milioni, quindi ha l'obbligo di vincere lo scudetto perché se ragionassimo sulle vittorie basate solo su quanto si è speso sul mercato il PSG avrebbe già vinto sette Champions League e invece non è mai ancora arrivato in finale. Però il City almeno una la vinta. Il PSG non è manco ancora arrivato in finale. La finale sì col Bayern, la persa. Adesso bisogna vedere se non li mandano in C2, non fa niente. Ecco, però è evidente comunque che l'investimento è importante. Poi magari la Juventus non vince quest'anno perché rivince l'Inter. Però la Juventus, al netto della rivalità che travalica la rivalità sportiva fra le due tifoserie, la Juventus quest'anno non è più la squadra dell'anno scorso che è rimasta fino a lì a febbraio per un miracolo di Allegri che poi piacesse o non piacesse ai tifosi, eccetera. è un dato di fatto, la Juventus è stata a un punto dall'Inter fino a febbraio per un miracolo vero. Era addirittura sopra. Perché con la rosa che aveva, non c'era corsa. Anzi, con la rosa che c'era, aveva senso il distacco finale tra Inter e Juventus. Che bello Allegri, ma io rimpiango Allegri. Non essere lì punto a punto. Oggi la Juventus ha una rosa in grado di lottare con l'Inter. non vuol dire che sia obbligata a vincere lo Scudetto. Vuol dire che abbiamo due squadre di altissimo livello. Secondo me Napoli e Atalanta vengono un gradino sotto. Il Milan potrebbe essere a livello di Napoli e Atalanta, ma gli equivocitati di quello di Atalanta. Allora, io però prima di sentire lui, e dico questo, dobbiamo dirlo anche per la cronaca, inutile che ci vogliamo far vedere, perché poi oramai sono conclusive queste gravi. Noi abbiamo dei pazzi che vanno avanti col calciopercato, alzio di UEFA. Anche a novembre. Ma anche oltre a quello che fa la rabbia saudita, ci andiamo oltre. Hai morto, vogliamo il calciopercato. Siamo qui, forse anche negli Yemeniti. Però io dico questo, alla fine, addirittura all'Inter il calciopercato lo ha fatto prima. Prima, prima. È un grande dirigente, eccola qua, che è in Marotte, doveva fare delle poche scelte, e insomma le ha fatte, questa è la Juve. Questa è la Juve. E le ha fatte, allora insomma, questa volta vedete io, io stavo parlando dell'Inter, quindi se riusciamo, togliamo un attimo la Juve, se no facciamo confusione, poi la ridiamo. Se mi date l'Inter, ha fatto tutto prima, tutto prima. Ha cambiato poco, aveva già una bella squadra, eccola qua, aveva già una bella squadra, aveva deciso di prendere Taremi, e vabbè, insomma, Zelinski lì, ora è arrivato questo Palacios, va bene Martinsa, però vedete, la squadra è questa. Consolidata. no, addirittura è stata difesa, la squadra, con 50 accanti, quando ci siamo visti, da parte di Inzaghi, quindi, è una super squadra, che avendo cambiato poco, ha anche dei meccanismi consolidati. Sulla carta, se tutto regge, poi vedremo l'impatto della Champions, è destinata a fare il bis, insomma, onestamente, no? Allora, per quello che si è visto con l'Atalanta, la pancia piena, sembra non ci sia questo pericolo, perché la squadra ha dimostrato, insomma, di essere sul pezzo, però, come diceva, non so se l'avete visto quel film bellissimo, La scuola, con Silvio Orlando, dove c'è il professore... Allora, l'ho visto, mi fido di tenso. Allora, c'è il professore d'inglese, che quando arrivano, arrivano gli scrutini, e c'è il professore italiano, che è Silvio Orlando, che li vuole promuovere tutti, perché è un papà per i suoi studenti, no? e c'è questo professore d'inglese, che dice, ma almeno questo me lo fate bocciare, uno me lo fate bocciare. Allora, quello che voglio dire, è che quest'anno, la Juve ha speso 200 milioni, il Napoli 150 milioni, poi ha pure incassato, va bene, ma almeno una rivale, me la fate mettere... Adesso, scusa, prima di parlare delle rivali... ma dico la Juventus, siccome Inter-Juventus... Facciamo come nella psicanalgie, diciamo... L'Inter, siamo tutti d'accordo... Parliamo della nostra identità, non in modo dialettico, ma da soli davanti all'ospetto. L'Inter è consolidata, la domanda che ti ho fatto... Si è rafforzata... Più forte dell'anno scorso... Più forte dell'anno scorso... Destinata a una conferma... A lottare per lo scudetto, sì, poi nel calcio deve, secondo me non esiste, nello sport come nel calcio, perché deve, durante l'anno può succedere di tutto, già solo alla nuova Champions, dove tu non puoi più fare il turnover in Champions, perché ogni partita ti permette poi di andare in una posizione, del girone unico, dove puoi prendere anche poi più soldi, andare avanti, è un obiettivo. Quindi, in campionato, per esempio, le tre partite che l'Inter farà con le rivali, Inter, Juve, Inter, Milan la prima, Inter, Juve e Inter-Napoli, verranno dopo tre turni di Champions. Vediamo un attimo, però, già che ci siamo, l'ha preparata la regia, l'abbiamo preparata oggi, vediamo il calendario diverso delle due squadre, in attesa dello sconto diretto, se non sbaglio, il 27 ottobre. Il 27 ottobre, ecco, per esempio. Allora, vediamo, lasciamo le un attimo cose del genere. Inter-Milan, dopo Manchester City-Inter, l'Inter giocherà in casa del City, non può essere una partita dove l'Inter mette le alternative con il Manchester City, e lì il Milan giocherà addirittura il martedì, un giorno in più di riposo. Inter-Juventus arriva di domenica, dopo la partita di Champions, che è vero che è lo Young Boys, ma la devi vincere con lo Young Boys, e la Juventus giocherà con lo Stoccante il giorno prima. C'è anche lo Stoccante. No, la Juve gioca il giorno prima. Però giochi in casa. Quindi la Juventus arriva il giorno prima a Milano. No, l'Inter gioca fuori casa in Svizzera. L'Inter gioca in casa il 27 ottobre. Se la guarda questo, ma viene da una trasferta europea. La Juve arriva a Milano, quindi si perde l'annamento a Torino. Sì, ma quello che voglio dire è che per l'Inter, Manchester City-Inter, Young Boys-Inter, così come tutte le partite di Champions... Secondo me stai mettendo non le mani, la giacca, i pantaloni... Allora la Juve e Napoli hanno speso 400 milioni in due, non devono lottare. Allora dateci già lo scusere. Scacchiamo un po' sullo studio, se no qua, ecco, la teniamo dietro. Prego, allora. Se però racconti così, i 200 milioni sono raccontati per... Andiamo al bar raccontare che la Juve ha speso 200 milioni. Ne ha incassati 100 e passa. Ha incassato. A bilancio 53,8. Ha speso. Ha speso. Di spesa 53, non 200. Perché ha fatto questa operazione? No, di disavanzo. La differenza a bilancio è 53,8 milioni. Che è diverso dalla spesa, Francesco. Sì, ma è tra incassi e uscite. Ma qui non stiamo parlando di virtuosità del mercato. Le 200, gli incassi sono 120. Hai speso 200. Poi hai incassato altri soldi per altre... Hai risparmiato 50 milioni. Ma comissima, brava la società, la spesa sul mercato è di 200. Perfetto. Come ho detto prima, non vuol dire che sei obbligato a vincere. Sì, io vado sul mercato e spendo 100, ma ne incasso 50, ho speso 50, ho speso 100. Ok, torniamo... No, hai speso 100. Mi posso inserire... Hai un disavanzo di 50. Mi posso inserire un secondo, però scusa un secondo. Sì, non volevo essere questo con un discorso. Non vi voglio spegnere, anzi. Però ricordiamoci un attimo come è arrivata a questo mercato la Juve. È arrivata dopo tre anni tormentatissimi. Non era quasi mai successo se si dimettessi una volta solo un intero consiglio di amministrazione. C'è stato poi dopo questo una serie di problematiche con la giustizia, di cui abbiamo scritto tutti, riformata la giustizia sportiva, a parte la giustizia normale che non si riesce a riformare, ma pure quella sportiva. I punti sono stati dati e tolti, poi era fuori dal loro, ma doveva essere dentro, era terza, poi è diventata quarta. Avete ricordato voi l'anno. Questo contatto complicato di Allegri che è stato un uomo importante e non importante. Certo, io rimpiango Allegri perché la sceneggiata finale con l'Italia è stata una bellezza giornalista. Quella su Rocchi. Io la vorrei rivedere, peccato che non abbiamo i diritti. Ma su Rocchi cosa sono giunti lì? Ma tutte e due. Sono d'accordo. La cosa lanciata, lo senispogliarello, si è dimostrato un vero Juventino. Il Vaffa, insomma, sembrava Beppe Grillo, era bellissimo. Si è liberato di tutti, però al di là delle conseguenze economico-contrattuali. Quindi la Juve, e chiude seriamente il ragionamento, arriva a questo mercato al di là del valore in sé, deve, non deve vincere, con una problematica di ricostruzione sua, che è diversa dalle altre squadre in questo momento. Quindi c'è arrivata dopo un percorso anche societario, di governance, molto pubblicato. Grazie perché mi allaccio a questo, perché parto da Sarri che raccontava vincendo lo Scudetto che era una squadra inalienabile ed era la squadra che aveva ancora praticamente allegri senza Ronaldo, senza Gliambrecian, senza Chiedira, senza eccetera. Ma tu di? Però io vedo, in tutto ciò vedo, sinceramente, lo dico non perché devo mettere le mani avanti, io ad oggi vedo una squadra che non è una squadra l'Inter, è un plotone di esecuzione per chiunque la incontra. Lasciamo stare Genova, che è un campo difficile, una partita particolare. L'aveva vinta anche lì. L'aveva vinta anche lì. Ha fatto una scioccazza. Ha fatto una scioccazza portiere. È una squadra che oggettivamente se guardiamo la rosa che abbiamo appena rivisto io la vedo il meno possibile, vedo dei cambi che mi ricordano quella creatura che costruì meglio all'epoca perché ha aiutato di più da Conte prima e da Allegri poi, Marotta negli anni dove aveva tre rose di cui due di livello uguale e la terza era simile alla seconda. Cioè, qua tutti Zenischi e Tareni, prende in serie ad aggiungere a Mkhitarya. tra l'altro, si devo dire questo. Avete visto come Marotta ha fatto passare in secondo piano un cambio di proprietà societario che in altri casi avrebbe fatto scorrere come si dice l'inchiostro sui giornali? La nuova proprietà che è stata brava a nominarlo presidente? O la stampa? Perché a Milano massacravano due anni fa per questo analogo. All'Inter invece sembrava addirittura un vantaggio. E la nuova proprietà è certo che è stata un vantaggio. No, ti rispondo subito. Marotta è bravissimo a tenere i rapporti con tutti i soldi. Ma che Marotta? Ma ragazzi, Marotta non è il proprietario. È il proprietario bravissimo a mantenere il rapporto. Siamo d'accordo. È bravissimo a mantenere. Siamo d'accordo. Ma abbiamo parlato prima di Cardinale che manda via Maldini. L'Inter, al contrario di quella del Milan come un capolavoro mentre di là viene raccontato come un disastro. Ma scusa, abbiamo parlato però Francesco aspettate. Mettiamo d'accordo su questo. Arriva una nuova proprietà di solito che fa cambia. Questa nuova proprietà ha confermato il management. Marotta non è il proprietario dell'Inter. Potevano mandarlo via perché dicevano cambiamo arrivano noi. Tu dici sarebbero stati dei pazzi. Hanno mandato via Maldini e aveva detto lo studente. Ho detto che sono questi di OCTRI. OCTRI è un fondo? Ma l'abbiamo approfondito noi giornali. Io credo di sì. Fanno parte di un fondo ancora più grande che è Brookfield canadese ma saranno come tutti i fondi il loro obiettivo sarà aumentare il valore del club per vendere. Non è che sono qui a vita. Saranno qui fin quando qualcuno magari dopo aver firmato il progetto Stadio c'è un imposto venerdì 13. Se torniamo indietro alla situazione Milano e l'Inter sono raccontate come due storie completamente differenti. Perché sono completamente differenti. Ma come no? Ma come no? Quello è discontinuità quell'altro è continuità. Una è fallita per la stampa italiana a gran parte e l'altra invece è rinata. E chi ha detto che è fallita? I conti sono appostissimi. Era. Quando successe quello che è successo al Milan rispetto all'Inter una era una questione di fallimento a livello sportivo sicuramente c'era 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 varie tragiche medie si è analizzata di più la situazione del Milano. Sentite al di là delle questioni proprietarie rivediamo un attimino perché dobbiamo vedere vediamo un attimo così per far condizio anche il mercato della Juve così chiudiamo un attimino e diamo una valutazione con l'opini di questo mercato oggi i giornali dicono adesso il compito di Diago Motto dopo questa piccola frenata di domenica con la Roma prima vera squadra che ha incontrato tra virgolette se non si offende non si offendono insomma quelli per me il Veroni è più squadra della Roma però insomma alla fine la Juve si è fermata a 7 punti riparte lì però insomma ora dovrà mettere dentro i big quindi deve far lavorare bene con Miners la critica è stata entusiasta di Concezio Junior sul Douglas Lewis così così ecco Marabio che fine fa che ha detto di no al Milan vorrebbe andare in rabbia vorrebbe andare in rabbia anche lui stasera almeno si parlava di una possibilità e però lui è svincolato si si parla che l'unico posto dove potrebbe avere la mamma più di 10 milioni di però non è niente di questo non è una notizia vi vediamo mancano due minuti allora il percorso che porta al big match perché è un mese decisivo due squadre che hanno anche la Champions lo rivediamo un attimino perché volevo dirvi questo lasciate un po' un attimo da parte diciamo le squadre straniere oppure vediamo un attimo insomma all'Inter gli tocca il Manchester City poi gli tocca la Stella Rossa e i Young Boys alla Juve gli tocca il PSV in Dover poi gli tocca l'Ipsia e poi gli tocca lo Stoccard più o meno se togliamo il Manchester City siamo paritari perché l'Inter vediamo un attimo perché insomma è anche un esame per la vista 9 decimi ancora 10 decimi nella mia età il turno bello e il derby da una parte Juve-Napoli da parte esatto c'è il Monza poi c'è il Derby poi c'è l'Udinese e poi c'è il Torino poi c'è la Roma e la Juve all'Empoli il Napoli il Genoa il Cagliari e la Lazio più o meno se togliamo il derby più o meno il derby perché la Juve a Napoli come difficoltà potrebbe essere il Napoli la Roma più o meno sono diciamo viste così molto macroscopicamente difficoltà simili per arrivare a questo mese ma secondo voi poi alla fine esponiamoci un attimo il derby d'Italia ma al di là di questo mese del big match diretto che oltre l'Inter la Juve ha delle chance o no perché se no è inutile che il derby d'Italia perché stasera avete detto proprio a proprio che l'Inter è troppo sopra l'Inter al momento scom'è così poi dopo ma per me la Juve è una rivale serie siamo siamo nel momento in cui Claudio scusami ti sto assoluto a prova no no ma va tranquillo ora la Juventus sta iniziando deve iniziare in questa sosta di inserire i giocatori che sono appena arrivati e che non ha inserito di livello superiore cioè con Maners di Gonzales con Sessao di cui io parlo benissimo da un mese e quando è arrivato io sono super contento perché lo seguo da due anni secondo me è un demone in campo lo si è visto l'altra sera se non lo stessi andato in giro con gli stati europei per vederlo no lo seguivo ovunque però col porto con il portogallo con gli stati europei no no davvero anche perché era figlio di un giocatore che a me piaceva tantissimo alla Lazio e non solo e Douglas Luiz ha giocato l'altra sera il primo vero straccio di partita juventina secondo me del suo momento e vi posso confermare che seguendo lui in Premier ti rendi conto che ha a che fare con un fenomeno potenziale o con un fenomeno fatto e finito la differenza di Douglas Luiz con il tipo di rosa che ha adesso in mano Tiago Motta è che lui vuole tutti i giocatori che giocano di prima o di seconda che vanno via veloci lui ha un problema soltanto che è lento fisicamente nel correre non nel gestire la palla è un giocatore diverso quindi ci vuole un momento come questo per cercare di capire dove lo si può inserire se al fianco di Turambo di Fagioli pochi secondi hai ragione pochi secondi la Juve contendente sedia no sulla partita secca la Juve è sicuramente in grado di giocarsela con l'Inter giocarsela vuol dire che può vincere una può vincere l'altra sul campionato ripeto l'Inter in questo momento ha un'esperienza superiore la Juventus ma basta vedere quando abbiamo visto le rose nell'Inter i nomi in azzurro quindi nuovi sono tre sostituzioni nella Juve sono sette nuovi titolari si no la Juve contendente beh sì assolutamente sì con l'Inter nettamente favorita secondo me noi nelle puntate di metà autunno vedremo questa cosa che per ora essendo presi ubriacate di calciopercato non riusciamo a vedere quanto pesano le panchine perché quando arriverà la stanchezza le partite saranno tante le soluzioni saranno decisive anche per le partite di campo internazionale e per gli effetti emotivi e di fatica che avranno e poi ci saranno gli infortuni eccetera il motivo per cui ho tenuto Napoli come contendente è proprio che Napoli non avrà questo peso però la Juve secondo me ha messo dentro delle riserve importanti più di quanto l'anno solo il mercato della Roma nel finire tra l'altro perché la Roma è cambiata in questa settimana è cambiata